Allora, oggi abbiamo una grande esclusiva qui sulla nostra tv, abbiamo il piacere di intervistare Laurinas Grichelis, 200 del mondo, grande giocatore che si allena sui nostri campi in questo periodo. Allora, la preparazione com'è andata? La preparazione adesso mi sono fermato qualche giorno dopo Rolangarò, ho dovuto ricaricare le pile, mi sono allenato qualche giorno a Cremona e poi sono venuto qui a Janos Tennis Club a lavorare con Mara Bellerba che mi aiuta. E mi appoggio qua al tennis e voglio ringraziare perché è un appoggio molto importante. Bene, e speriamo di averti qui altre volte. Sì, quando riesco a venire qui vengo sempre qua, perché con Mara stiamo cercando di lavorare più, avere più continuità e come ho detto, appoggiarsi a un circolo comunque è importante, perciò ringrazio Janos Tennis Club che mi dà questa opportunità. Certo, e per il proseguo della stagione qualificazioni magari a Wimbledon, visto la classifica? I prossimi tornei sono, vado a fare Nottingham tra dieci giorni che è un Challenger 64.000, dopo mi aspettano le qualificazioni a Wimbledon e dopo quello rimango in Europa, faccio qualche Challenger e dopo siamo in America a fare qualche Challenger e poi fare le quali US Open. Ti auguriamo comunque in bocca al lupo perché comunque sei un giocatore, abbiamo visto meriti, diciamo, ampi, migliori palcoscenici e una migliore classifica. Grazie mille.